Vorrei parlarvi di luci ed ombre sull'ex cinema Eliseo di Avellino. Una luce è il compleanno della sala cinematografica inaugurata esattamente 80 anni fa nel complesso dell'ex GIL, gioventù italiana dell'ittorio. Altri tempi veniamo ad oggi e alle ombre fa parte di un lungo elenco di cattedrali nel deserto o per meglio dire di cattedrali nel degrado perché mentre il deserto è un luogo arido, come i nostri servizi hanno invece evidenziato c'è vita intorno all'Eliseo tra droga, vandalismo e rifiuti. Ma parliamo di un'altra luce, nonostante tutto l'ex GIL è vivo nella memoria degli Avelinesi, soprattutto dei meno giovani che lo hanno vissuto nel tempo come spazio di aggregazione sociale. Un'altra ombra che si allunga invece è quella della burocrazia. La struttura non è ancora tornata in possesso del comune di Avellino, la regione sta attendendo le carte delle nuove planimetrie per la cessione, un dettaglio che non preoccupa e di poco conto, ma che deve preoccupare. Sappiamo come vanno le cose, altre ombre, i soldi spesi, i lavori fatti e rifatti, l'inciviltà e mancati controlli, non c'è ancora un proiettore, ma parliamo delle luci, il comitato che come tanti altri si è speso su questo tema per riaprirlo. La decisione ultima, assunta in Consiglio Comunale, di dar vita ad una fondazione di partecipazione. Che cos'è? In teoria è una buona idea, poi bisognerà vederla in pratica. Pubblico e Ollus si mettono insieme per gestire quella struttura. Sarà importante capire come la si gestirà. Bisognerà scrivere uno statuto, il comune darà questo incarico ad un notaio, ci saranno poi dei bandi per acquisire le volontà dei privati di partecipare perché dovranno metterci i soldi e questo il punto. Come gestirà il comune però è ancora non è chiaro, soprattutto se vorrà investire qualcosa di suo il comune. Allora nuove ombre potrebbe passare l'estate, poi l'autunno, chissà ancora e nonostante tutto, nonostante gli impegni assunti, aprire l'ex Eliseo entro la fine della legislatura, potrebbe accadere che non se ne faccia nulla, noi speriamo di no, logicamente. Segnalo che sul tema ex Gil si sono spesi i giovani di questa città, i giovani di Libera che hanno immaginato un progetto di recupero o ancora i giovani del liceo Mancini che sono andati in visita al Consiglio regionale e hanno proposto una normativa ad hoc per il recupero del cinema Eliseo. Non so onestamente se quella individuata in Consiglio Comunale sia la strada giusta da imboccare per riaprirlo, so che se la maggioranza ci riuscirà sarà da sostenere e da applaudire. In caso contrario, sin da ora diamo un consiglio ai prossimi candidati al comune di Avellino, non azzardatevi più a parlare di Eliseo in campagna elettorale, troppe volte la speranza è stata tradita, uccisa, troppo alto il rischio tra luci ed ombre. Di rivedere un film già visto sull'ex Eliseo e questo è il punto. Grazie. Grazie.